Bentornati su MyFootballGersy. Vediamo una squadra italiana, la maglia di una squadra italiana. Questa è la prima maglia del Cagliari in edizione fan, l'edizione fan è quella un po' più economica, pensate per i tifosi. Grazie per la visione! La maglia del Cagliari È la prima volta che prendevo la maglia del Cagliari, devo dire che è molto bella, indossata, mi piace, mi piace tanto. Il costo lo vedete come al solito qua sopra, vi ricordo che comprende anche le spese di spedizione e per una maglia fatta così bene con tutti i dettagli al posto giusto, devo dire che è veramente un buon affare. Se volete maggiori dettagli trovate i riferimenti qua sotto in descrizione, andate a vedere perché sempre in descrizione trovate anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari, quindi il costo diventa ancora più basso. Ora vi lascio la parte finale, prima di lasciarvi però vi ricordo iscrivetevi al canale, è un piccolo gesto ma ci aiuta a mostrarvi recensioni come questa tutti i giorni. Per oggi è tutto, alla prossima! Ciao!